chiara ci racconta ogni martedì alle ore 16 un racconto per i bambini e il giovedì sempre alle ore 16 un racconto per tutti chiara ci racconta su www.noiframmentidisiena.it e nella pagina facebook noi frammenti di siena allora ma ben ritrovati ma che bello questo appuntamento che abbiamo ogni settimana allora o ma se c'è qualcuno di voi che ha voglia di provare un corso di improvvisazione teatrale cioè venite perché ci sono tre mercoledì vero uno era ieri il 30 settembre poi ci sarà il 7 e il 14 ottobre quindi a danza nel mondo giù in via le toselli e venite a provare l'improvvisazione perché l'improvvisazione non si improvvisa quindi bisogna bisogna imparare e allora dai venite se avete voglia quindi benissimo grazie di questa meravigliosa accoglienza con noi frammenti di siena e allora vediamo che cosa vi racconto questa settimana è una storia incredibile di quelle sai che si trovano per caso perché io chiaramente sono già consapevole della mia vastissima ignoranza quindi io di questo di questo scrittore non sapevo niente soprattutto del suo collegamento con siena che è straordinario ho trovato quest'articolo in una pagina che si chiama gli stati generali ed è un articolo di alida airagi del 24 settembre di quest'anno due anni dopo il romanzo autobiografico il ritorno premio pulizia nel 2017 isham matar pubblica sempre da inaudi un punto di approdo di cui poi dopo vi leggerò giusto l'inizio di capitolo perché riguarda insomma lo vedrete poi riprendendo in parte i precedenti spunti narrativi ma facendoli lievitare in un contesto assolutamente diverso italiano e artistico isham nato a new york nel 1970 cresciuto a tripoli è figlio di jabal amatar un diplomatico libico oppositore del regime di cui tuttora non si conosce la storia successiva al suo rapimento alla prigionia nel carcere di abu salim nel 1990 anno della sparizione del padre isham aveva 19 anni e viveva a londra città dove tuttora risiede e passava molte giornate alla national gallery a osservare i capolavori della pittura medievale senese impressionato dal loro misterioso e sconvolgente fascino ho scoperto che un dipinto richiede tempo ora impiego parecchi mesi o più spesso un anno prima di riuscire a passare oltre e nel frattempo quel quadro diventa un luogo mentale e fisico della mia vita qualche anno fa isham matar stremato dal lungo lavoro introspettivo richiestoli dalla composizione del suo romanzo di maggiore successo decise di recarsi a siena per meglio approfondire il suo interesse per l'arte italiano una vera e propria dipendenza emotiva accompagnato nei primi giorni del viaggio dalla moglie Diana subito si immerse in un girovagare affrancato da ogni vincolo di finalità pratica in una flanerie disponibile a lasciarsi impressionare da qualsiasi oggetto architettura fisionomia umana paesaggio naturale suscitasse in lui eventuali suggestioni un vero inno d'amore per la città affiora dalle descrizioni delle prime pagine le curve improvvise dei vicoli e la prossimità degli edifici accrescevano la mia sensazione di entrare in un organismo vivente a ogni passo mi ci insinuavo un po di più ed esso quasi in risposta mi faceva spazio ero entrato in un posto familiare e del tutto sconosciuto ricordo di aver pensato che una delle principali funzioni delle città è proprio questa essere lì in parte per renderci più intelligenti e più intelligibili l'uno all'altro la scelta editoriale di enaudi di titolare il romanzo in modo diverso rispetto alla versione inglese che a mans in siena un mese a siena non risulta affatto peregrina poiché intende sottolineare l'avventura intellettuale vissuta dall'atore nel senso di uno sbarco e ancoraggio in una nuova dimensione spirituale infatti l'esperienza compiuta da matar nel mese trascorso a siena è stata per lui scrittore ormai maturo e affermato rigenerativa e insieme trasformatrice l'emozione suscitata dall'immersione visiva negli affreschi di duccio di buoninsegna simone martini ambrogio lorenzetti è diventata stimola una riflessione sugli avvenimenti basilari della propria vita sulle presenze e assenze che ne hanno segnato indelebilmente il percorso le considerazioni dello scrittore su quadri ammirati e studiati nella città toscana costituiscono dei veri e propri piccoli trattati di critica d'arte il capitolo dedicato alla contemplazione dell'allegoria del buon governo il volume è corredato da illustrazioni a colori è un puntuale commento della visione filosofica e storica alla base delle soluzioni pittoriche praticate da lorenzetti e da ciascuna delle opere d'arte osservate matar trae spunto per annodare collegamenti ad altri quadri antichi e moderni a ricordi di incontri avvenuti in diverse epoche luoghi della sua esistenza all'intenso legame con la moglie alla memoria lancinante per la nobile figura del padre scomparso o semplicemente ai sogni agli incubi notturni e soprattutto alla storia contemporanea le sue ingiustizie e atrocità per cui anche la crudeltà dello sgozzamento di golia da parte del davide caravaggesco ha la funzione di far meditare sulle sanguinarie esecuzioni del terrorismo internazionale l'osservazione dei capolavori pittorici assume un valore di svelamento della condizione umana del suo patire come del suo essere felice nella relazione intessuta tra l'artista e la sua epoca tra un quadro e chi lo guarda tra un particolare colore e un trasalimento dell'anima nella convinzione che quanto ci accomuna sia più di quanto ci separa l'arte ha il potere di cambiare il nostro modo di guardare a noi stessi e al mondo di aprirci al meglio esplorare ciò che ci circonda in una condivisione del sentire che è immersione nei secoli di storia che ci hanno preceduto nella proiezione di un futuro sempre più perfettibile un romanzo particolare e nuovo questo di matar reso di piacevole lettura grazie anche alla limpida traduzione di anna nadotti quindi il romanzo si intitola un punto di approdo e io vi vorrei leggere una parte del capitolo che si intitola la porta di duccio dopo aver vissuto altrove per più di trent'anni sono tornato in libia il luogo in cui sono cresciuto il paese delle mie origini il punto dal quale ero partito e dal quale mi ero allontanato sempre di più tornarci ha cambiato le sembianze sia del passato sia del futuro ho sentito l'urgenza di scriverne ho impiegato tre anni a finire il libro e sono riemerso a fatica da quel lungo periodo di assoluta concentrazione è stato allora che ho deciso di andare a siena l'arte senese mi interessava da molto tempo ma ora che mi apprestavo a partire la mia mente scogitava modi per dilazionare l'arrivo era come se i lunghi anni di attesa avessero creato una reticenza così complicavo le cose dal momento che siena non ha un aeroporto ho pensato di volare su firenze per correre a piedi l'ottantina di chilometri attraverso le colline del chianti mi piaceva l'idea di coprire a piccoli passi quella distanza ed entrare a piedi nella città ma una settimana prima della partenza ho avuto un incidente assolutamente banale girandomi di scatto mi sono procurato uno strappo al ginocchio avevo un dolore tremendo quando ho chiesto al medico come era possibile che mi fossi fatto così male con così poco si è limitato a dire succede aggiungendo che non dovevo per nessuna ragione fare lunghe camminate sulle prime ho pensato di annullare il viaggio mi dispiaceva per l'appartamento mi era bastato un quarto d'ora di ricerca online per trovarlo avevo già versato la caparra sebbene il mio ginocchio non fosse del tutto guarito ho voluto partire comunque alla data prevista mia moglie Diana ha deciso di unirsi a me per un paio di giorni mi stava in realtà portando a destinazione sembrava che conoscesse me meglio di me il mio bisogno di fare quel viaggio siamo riusciti a trovare solo due biglietti per un volo suisse io sono nato nel settanta e sebbene vivessimo a tripoli durante la mia infanzia i miei genitori viaggiavano per lo più con la compagnia svizzera ancora oggi l'associo ad avventura e affidabilità nella seconda tratta da zorigo a firenze e proprio mentre stavamo sorvolando le alpi incappucciate di neve con i loro terrificanti burroni ulteriormente scavati laddove scorrevano neri torrenti di neve sciolta l'aereo ha fatto un'improvvisa avvirata e invertito la rotta qualche minuto dopo il pilota ci ha comunicato che a causa di un'avaria meccanica dovevamo rientrare a zorigo nessun'altra spiegazione ho calcolato che mancavano 40 minuti per arrivare a firenze e che ce ne sarebbero voluti una trentina per tornare a zorigo cosa poteva essere accaduto per decidere che l'aereo non poteva affrontare quei dieci minuti in più diana mi teneva la mano fatto un paio di battute su come sarebbe stato divertente passare qualche giorno sulle alpi lei ha accennato un sorriso e non ha replicato l'aereo era pieno e quando ha preso a vibrare leggermente alcuni passeggeri non sono riusciti a trattenere un mormorio di panico ho sentito una donna che piangeva per il resto sono rimasti tutti fermi e silenziosi ricordo di aver pensato che non mi importava di morire prima o poi doveva succedere ma ancora non ero pronto e morire adesso sarebbe stato uno spreco visto che ci avevo messo tanto a imparare a vivere quando l'aereo è atterrato a zorigo parecchi dei nostri compagni di viaggio hanno applaudito diana e io abbiamo consumato un pranzo insipido in aeroporto sentendoci svuotati da quell'esperienza il pollo successivo è atterrato a firenze che era quasi sera siamo andati a bere e mangiare qualcosa in città riuscendo anche a prendere l'ultimo autobus per siena ridevamo di quella saga di aver impiegato da londra a firenze lo stesso tempo che si impiega di solito per andare in india l'autobus avanzava nell'oscurità si è messo a piovere e la pioggia che sversava i finestrini in ogni direzione era terribilmente bella ed è bellissimo come scrive mannaggia io lo sto scoprendo e penso che io penso che lo prenderò questo libro perché mi piace troppo mi piace come come state scrivendo tutto sono già passati undici minuti e mezzo e e poi ho paura di farla troppo lunga e non lo so e però io lo vorrei leggere tutto quindi ciao ci vediamo domani per chi vuole con una lettura al giorno e altrimenti chiara ci racconta la prossima settimana e vi ho letto un punto di un punto di approdo e quindi bellissimo e penso che che proprio veramente mi piace proprio tanto quindi isham matar un punto di approdo ciao